vediamo se è già pronto quindi a questo punto questo è il nostro indirizzo questo è proprio un indirizzo pubblico tutti i file contenuti all'interno di punto env considerateli segreti e privati anche questa url con questo segreto e a questo punto andiamo a vedere se è già disponibile ok qua ci sta dando un errore però ci ha risposto e il certificato è valido quindi è sicuro vediamo qua si vede che non è ancora pronto il servizio di nextcloud visto che non è ancora pronto possiamo provare a fare un'altra cosa come vi dicevo possiamo anche chiamare con un indirizzo interno per esempio 192 168.1.5 questa è la mia configurazione appunto locale potrebbe cambiare nel vostro caso ok allora c'è voluto qualche minuto ma adesso dovrebbe essere attivo quindi questo è nextcloud demo.mu.com facciamo aggiorna e come vedete possiamo inizializzare l'account di amministratore e il certificato appunto è valido quindi significa che traffic funziona correttamente e anche nextcloud in alternativa possiamo provare l'indirizzo ip locale per esempio nel mio caso è questo e come vedete accedo alla stessa pagina ma mi viene detto che non è sicuro il mio consiglio è quello di partire subito con la configurazione tramite il sito esterno in modo tale che ce l'abbiamo già configurato correttamente quindi qua vado a creare l'account di amministratore e di default ci vengono installate anche le applicazioni quelle più comuni all'interno di nextcloud che sono appunto il calendario i contatti e l'editing collaborativo questa operazione potrebbe impiegare un po di tempo qua potete vedere i log che comunque sta facendo qualcosa qui facciamo finta che ci ripenso quindi faccio cancel e a questo punto sono all'interno di nextcloud su https quindi possiamo utilizzarlo proviamo di nuovo la configurazione locale specifichiamo sempre la porta e come vedete mi viene detto adesso una volta fatta l'inizializzazione non posso più accedere se non vado a modificare questo file che si trova dentro la configurazione di nextcloud quindi config config.php il mio consiglio comunque quello di utilizzarlo sempre tramite https e usare con la modalità lì solo in caso di debug oppure errori ok